Il Vescovo di Novara ha benedetto la nuova funivia che collega Casale Corte Cerro al santuario del Gezzemani, poi il viaggio inaugurale lungo i 216 metri del percorso, quindi la messa celebrata nel santuario, in un angolo terrestre dedicato all'agonia dell'uomo Dio che sembra creato per preparare al paradiso. Il santuario che sorge di fronte al motarone è come un mistico rifugio per le anime che possano trascorrere periodi di ritiro, strette dalla mistica catena del Così Sia di Gesù nel Gezzemani e del Così Sia di Maria nella casa di Nazareth che si ricollega al fiat di Dio nell'atto della creazione, nel quale è contenuta come imboccio la nostra vita, quel Così Sia che inserisce volontariamente l'uomo nell'amirabile opera di Dio.